e buonasera e benvenuti a questa nuova puntata delle Leviathan Night, questa sera siamo con Nicolò Tofonelli, ciao Nicolò come andiamo? Ciao bene grazie a te? Tutto a posto, si comincia a sentire voglia di andare in vacanza, mancano pochi giorni e poi ci possiamo dedicare a un po' di relax, tu dopo le fatiche con Barbarian King ti stai godendo un po' di riposo, sei in promozione, come sta andando? Sì, diciamo che mi sono preso una pausa forzata per stare dietro a tante cose a cui non sono potuto stare dietro durante il lavoro su Barbarian King e quindi ora cerco di sbrigare tutte queste cose qui, poi un po' di riposo e poi si vede che succede, si vive molto a breve termine in questi periodi qui, è la cosa migliore. Piano piano, sono assolutamente d'accordo con te da questo punto di vista, fra l'altro l'ultimo volume di Barbarian King, qui davanti è letteralmente un balianotto, quindi la fatica è stata proprio tanta per realizzarlo, suppongo. Sì, è stato veramente super impegnativo come volume. Sia per la molle di pagine, sia per i contenuti, ma anche perché mi ero all'inizio prefissato di farlo in una maniera che poi si è rivelata un'arma a doppio taglio, perché insomma, piano di tratteggio, è bello dettagliato. Racconta un po', quali sono stati i progetti iniziali e poi come hai deciso di cambiarlo in questa, in corsa? Ma senti, non è stato, non è che l'abbia cambiato in corsa, è che io sin dall'inizio quando Massi mi presentò il progetto, insomma, di Barbarian King, mi disegnava bisogno di un disegnatore per il volume 2, io lo volevo fare sin da subito così. solo che non mi riusciva, perché era il primo lavoro coi tempi belli serrati, perché comunque lo dovevo fare in cinque mesi e mezzo, tempi belli serrati, tante pagine, tutto da solo e non avevo fatto granché prima di quello. Quindi ho dovuto fare una cosa molto più semplice, asciugata, un po' ai primi Invincible, perché dovevo fare una cosa che fosse... bella da vedere, ma non troppo impegnativa, però diciamo che l'idea è sempre stata quella di farlo così. Piano piano ho fatto scuola col volume 2, col 3 mi sono un pochino sgrezzato e poi sono arrivato a questo qui che sono riuscito a farlo così, com'è? E come tempistiche, com'è cambiato il tuo tipo di lavoro? Suppongo che un po' con la pratica sarei riuscito a fare cose un pochettino più in fretta, però aumentando il livello di dettaglio quel po' di vantaggio che avevi preso l'avrei riperso, suppongo. Eh sì, senti, sono partito, bello carico, bello entusiasta e ce la facevo a fare una tavola al giorno tranquillo, senza problemi. Poi il problema è che la fatica si accumula, sono tavole belle toste, belle impegnative, belle cariche e poi si sa, il mondo sta andando praticamente tutto in direzione contraria rispetto a noi per quello che succede, quindi un po' la fatica si faceva sentire. Però sono riuscito, nonostante tutto, a tenere quella tavola al giorno sette mesi e mezzo a sette, sette mesi e mezzo a finire tutto. Beh, comunque, tavola al giorno, soprattutto per il livello di dettaglio con cui lavori te, complimenti, cioè, è lavorone. Sì, sì, un po' troppo, cioè non mi sento ancora pronto a fare un lavoro con tutto quel grado di dettaglio e in così poco tempo. Ma tu fai parte di quella schiera di disegnatori che sono molto perfezionisti, per cui poi dopo quando riguardano i vecchi lavori e si correggono, pensano alle cose che avrebbero potuto fare in maniera differente? Nì, perché penso che se quella cosa è uscita così, doveva uscire così. Cioè, se non sei riuscito a fare di meglio, vuol dire che in quel momento non potevi pretendere troppo da te stesso. Perché comunque ci sono mille fattori e variabili, cioè vanno, quando sei sotto stress e con la consegna che non è proprio lontanissima, tendi a non pensarci, però è bene pensarci che comunque sei un pezzo di carne lì, su un tavolino tutto di curvo. In certi momenti bisogna anche dire, dai, vabbè, va bene così, l'hai finita, non fa profusione. No, vabbè, vabbè, vabbè. Il prossimo ti viene meglio, che poi, secondo me, è un buon consiglio, con estrema umiltà, però quello comparato io, che è proprio quello che ti fa migliorare, secondo me. Cioè, anche accettare il piccolo difetto che hai lasciato sulla tavola e pensare, quello dopo verrà meglio. Comunque, guardare tavole, il livello di dettaglio è impressionante. Adesso, al di là di tutto, pensare che tu possa aver fatto una tavola al giorno, effettivamente è cacchio, è lavorone. Sì, sì, sì. È parecchia roba. Poi ho cercato di fare in modo di non lasciare quasi mai una vignetta senza sfondo. C'è quasi sempre uno sfondo, pochissime sulette, non perché non mi piacciono, ma perché non le ho mai viste una cosa che stanno bene nel mio stile. Non lo so, mi ciclozzavano sempre un po' le silhouette nere. Ma, senti, ma la tua routine di lavoro com'era? Lavoravi prima un plot e poi dopo passavi direttamente alle tavole, oppure sei andato subito alle tavole in prima battuta? Facevo prima di tutto lo studio del soggetto con i personaggi, tutta l'ambientazione, tutte le varie note di Massimo che servono, insomma, con tutte le reference, tutte quelle cose lì, e poi tutti gli storyboard, perché ho proprio bisogno di costruire tutta la scena tutta di seguito, perché se no non riesco a costruire bene il film. Quindi hai già lavorato su quello, ma lo storyboard ha già un livello di dettaglio paragonabile a una tavola, oppure siamo proprio cogliomini, filiformi, come disegnerei io anche al mio meglio? No, è una via di mezzo, è una via di mezzo, non ci sono gli omini, cioè capisci che quello è Conan, capisci che quell'altro è un altro personaggio, capisci che lui è il cattivo, capisci che l'ambientazione più o meno è quella lì, però comunque non è una tavola su cui la, diciamo che la puoi mettere su il programma e inchiostarci sopra, quello no, quello la devo sempre aprire, fare tutta la matita definita e definitiva e poi inchiostrare. Ma è una... No, vai, vai, scusa. Dimmi, dimmi, no, no, dicevo è proprio una via di mezzo, proprio precisa nel mezzo, tra le due cose, tra l'omino a stecco e lo storyboard dettagliato. Ma è tutto già in digitale oppure fai qualcosa a matita che tieni per te, per referenza o studio o qualcosa del genere? Purtroppo no, tutto digitale perché ho un'ansia tremenda, inizio a lavorare sui volumi e ho sempre paura di non riuscire... Di bucare il tempo. Intensi, sì, sì. Quella è Massimo lo sa bene. Io c'ho proprio questa cosa qui che non riesco a concepire da arrivare in ritardo sulle cose, è proprio una cosa mia. Lo devo finire preciso e non devo sgarrare. No, tendenzialmente non è una cosa brutta, quindi capisco che poi... No, perché la gente, tanti non ci pensano, ma poi ci sono tante altre persone che lavorano sul tuo lavoro e quindi pensare già solo che glielo consegno mezz'ora dopo a un colorista, a un letterista, mi piglia male, mi piglia male, perché penso a sto poveraccio qui, arriva a lavorare su una cosa all'ultimissimo perché... Eh sì. Arriva sette mesi dopo il mio lavoro, sette, no, ma sei mesi dopo il mio lavoro, c'ha da colorarlo tutto in un tempo che non so come faccia, no? Poi il letterista deve fare tutto all'ultimissimo proprio. Quindi è più per quello. Ebbè, un giusto lavoro di staffetta in maniera tale che non lasci tutto all'ultimo, ma è condiviso da tutti il tempo da gestire. Tu parlavi prima delle sceneggiature di Massimo, Massimo intanto ricordiamolo per chi ci segue, è Massimo Rosi che è lo sceneggiatore e nonché il creatore della saga di The Barbarian King. Ma che livello di dettaglio è il lavoro di Massimo, se puoi raccontarci? Cioè, ci sono tante referenze, tanti racconti, c'è già una regia ben definita oppure sei libero comunque di poter intervenire, di aggiungere delle cose, di modificarle? Diciamo che è molto dettagliata come sceneggiatura, però non è quel dettagliato che ti... In gabbia. Che ti rinchiude. Eh, esatto, che ti rinchiude in una gabbia. È quel dettagliato che ti fa lavorare la fantasia. Sì, perché ti fa entrare bene bene nella scena, in tutte le cose, ti fa capire bene come sono i personaggi. Poi per quanto riguarda, che ne so, la descrizione delle ambientazioni ci sono anche tante referenze. Lui mi passa sempre tantissime referenze e sono contento di quello perché non sono bravo a cercare referenze, proprio non sono proprio bravo a lavorare con le referenze. Quindi mi dà una mano grossa da quel punto di vista lì. E poi magari può succedere che lui costruisce tutta una scena in un certo modo, la scena rimane invariata, però il layout, come dissi già altre volte, può cambiare. Non sempre, però magari leggendola mi viene subito il flash di quella vignetta tutta in un'altra maniera, magari una cosa mi viene più in mente a vivo e allora da lì stravolgo un po' il layout che mi dà lui, però diciamo che poi la scena rimane quella lì. Ma poi con l'editing come ve la cavate? Come funziona proprio in questo caso il procedimento? Ci sarà, suppongo, qualcuno che dopo rilegge le cose e va a controllare la regia di tutto quanto, che non ci siano contraddizioni, che ne so, magari qualcosa che è inquadrato in una vignetta dopo non scompaia, cose di questo genere. I tempi di correzione da questo punto dopo si allungano oppure riesci a gestire tutto sempre nel ritmo di una tavola per giorno? A me aiuta tantissimo il fatto che gli do tutto lo storyboard subito ed è a un livello di dettaglio che lui lo capisce abbastanza bene quello che succede. Dove non si capisce magari ci metto un appunto, tipo se un personaggio non si capisce bene che è lui, ce lo scrivo. Oppure scrivo su quell'edificio che è quell'edificio lì, ci scrivo proprio il nome. Quindi questa cosa qui lui mi corregge già se ci sono degli errori lì che può succedere e dopo, a meno che non ci sia una tavola particolarmente complicata, gli mando la matita e dopo faccio la china. Oppure gli mando ogni tot tavole tipo 10-15 tavole, gliele mando in blocco, le lechine, le ricontrollo e al limite si ricorregge dopo se c'è qualche errore. Capita o magari più che altro succede che faccio spesso tutti gli studi, faccio tutti i file immagini con gli studi e li mando, però succede che magari dei personaggi rimangono fuori, li faccio direttamente su tavola e magari se sbagliate non funzionano, allora lì si ricorreggono le tavole. Per esempio nel volume, come si chiamano gli assassini, i chili, ci sta una roba del genere? Sì, sì. Loro li avevo fatti, l'avevo buttata un po' troppo di fuori, avevo fatto tutta la parte del sultano, volevo spingere sulla cosa sci-fi, anche se non è sci-fi, perché comunque Howard è strano come autore, no? È molto, non è proprio un fantasy, non so come spiegarlo, magari è molto più bravo Soprattutto nel Barbarian King, beh nel Barbarian King soprattutto poi in questo caso ci sono anche tante influenze cosmiche, l'overcraftiane, quindi ci sono un po' in effetti tutti e due i mondi Esatto, esatto, e lì ero andato veramente completamente fuori strada e l'abbiamo recuperato tutti, l'abbiamo risistemato Ma tu sei praticamente salito a bordo di The Barbarian King praticamente dall'inizio, no? Quindi avrai collaborato probabilmente già alla Bibbia del mondo di tutta la saga. Qual è stata la cosa per te più semplice con cui confrontarti e di traverso la cosa più complicata? Allora, per me sono stati proprio la risposta più banale del mondo, i mostri Tutto quello che è mostruoso, perché è una cosa che mi è sempre riuscita parecchio bene, quindi quando Massimo mi descriveva delle cose strane che succedono, creature particolari ero tranquillissimo e anzi sono le parti in cui respiro di più quando lavoro a volume proprio lì mi rilassano le parti più difficili e saranno una cosa che per me saranno sempre difficili non c'è verso, sono tutte le parti in cui ci sono tanti dialoghi ci sono scene molto ferme e ci sono scene che richiamano parecchio la realtà quello lì è sempre stato il mio il mio punto debole cioè per me quando si deve fare un fumetto che è tutto inventato, è assurdo ci sono mostri, ci sono creature strane ambientazioni tutte da creare da zero io sono tranquillissimo come ti dicevo prima, per me il problema è la reference cioè se mi dai questa cosa qui è un templio romano è una crisi crisi perché devo seguire la realtà e lì è complicato quali sono state le reference? adesso mi dicevi il tempio romano in effetti ci sono alcune scene che ricordano un po' delle rovine romane nel Nord Africa fondamentalmente però questa è l'impressione che ho avuto io leggendo poi l'opera completa però suppongo che non ci sia stato solo quello che altro tipo di ricerca c'è dietro? quelle rovine lì erano tutte reference che io ci avevo già lavorato anche con Salomè quando lei riemerge dal fugge dal polso delle anime riemerge nell'oasi e c'è quella facciata lì di quel tempio scolpito lì avevo studiato diverse rovine antiche però erano più che altro medio orientali ok dimmi dimmi no 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 stavo realizzando da Salomè cosa è che è passato un anno e mezzo? due? mi sa di più eh sì due anni ti faccio i miei complimenti perché comunque il tuo stile si è evoluto in una maniera molto personale ed ovviamente sei cresciuto tantissimo in due anni evidentemente grazie stare a macinare una tavola dietro l'altra per quanto poi possa essere suppongo faticoso perché va bene il piacere di disegnare ma quando diventa così dopo è chiaro che è anche un lavoro però effettivamente ha dato dei frutti veramente molto molto succosi sì 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 poi è è anche lavorare con persone che come ti posso dire sono stimolanti alla fine sono persone stimolanti che ti fanno fare proprio quello di cui hai bisogno in quel momento lì io credo che mi abbia fatto bene anche soprattutto quello cioè io ho bisogno di fare quella cosa lì di disegnare quelle cose e di divertirmi su quelle cose lì penso che sia stata una combinazione di cose che mi hanno fatto poi migliorare così e poi vabbè c'è anche la cosa che quando fai tutti i giorni una tavola al giorno e la devi fare cioè nonostante tutto cioè succede veramente che finisce il mondo e però la devi finire e lì poi migliori per forza beh ho l'impressione che questa cosa che finisca il mondo te la sei un po' autoimposta te da solo se ti ho capito un po' mi sa che è un po' un ritmo che ti sei dato da solo è un diciamo che a un certo punto certe cose te le devi smussare perché sennò è è un macello cioè è come quando ti dicevo prima tante persone non riescono a magari accettare quell'errore nella tavola e lo riguarda mi dicono io quella cosa lì non mi succede mai io guardo le cose vecchie e mi piacciono dall'inizio alla fine perché le devi accettare è tutto lì senti a me è venuta sede intanto visto che abbiamo i nostri amici di popoli di birra facciamo vedere ci hanno dato gentile omaggio di queste birre tra l'altro molto belle anche come grafica vedevamo prima che sono di due stili diversi la mia è una Peleile e la tua è una Red Ale per cui io direi di stappare e di tra l'altro sono molto vicini sono più vicini a te che a me con il birrificio perché sono a Sasso Pisano sì l'ho visto prima Pisa sì ed è la cosa molto interessante che loro sono a chilometro zero per esempio usano i popoli geotermici per la produzione della birra quindi questa cosa è effettivamente interessante perché è un prodotto locale con alimenti naturali tutto realizzato localmente e soprattutto poi anche con l'energia della terra quindi c'è un po' questo legame barbarico se vogliamo è parecchio sì sì quindi cheers facciamolo virtualmente in attesa di poterlo fare dal vivo salute anche il sapore è effettivamente molto molto grumato sì sì assolutamente ci voleva siamo all'orario giusto per per berne un goccio dopo cena io mi ero portato anche il bicchiere però siamo tre amici che se ne frega abbiamo no ma infatti è meglio assolutamente senti raccontami un po' intanto ma dal punto di vista del tuo studio prima di parlarne prima di iniziare offline parlavamo un po' di Jack Kirby io qui vedo tanti secondo me ci sono tante ispirazioni differenti come giusto che sia quali sono i i tuoi modelli quando hai iniziato tu avresti voluto iniziare con avresti voluto seguire lo stile di chi se posso chiederti allora io dirò una cosa che io mi esprimo male mi esprimo malissimo quindi già una cosa bella complicata da dire però arrivo lo stesso ormai siamo qui no e allora io non guardo gli altri fumettisti cioè non guardo gli altri fumettisti attuali non perché non li apprezzi anzi cioè li adoro mi piacciono quasi tutti il problema è che non mi riesce trovare ispirazione nei disegnatori di ora perché non riesco a capire il lavoro di sintesi che hanno fatto perché le cose che producono sono il prodotto di tantissime ispirazioni diverse che confluiscono attraverso il loro stile in quella cosa lì ok quindi ho sempre cercato di guardare più che altro alla pittura e a quelle cose lì cose parecchie più vecchie ok e anche perché è da lì che ho iniziato a come si dice col mio percorso di studio ho fatto l'accademia di belle arti ho fatto pittura quindi più che altro guardavo quelle cose lì e mi piaceva fare quelle cose lì poi non mi sono riuscito a fare e sono alla fine sono finito a fare i fumetti perché con i dipinti uno schifo totale non ci riuscivo però vabbè comunque ho cominciato a guardare i disegnatori i fumettisti tardi e nei momenti proprio in cui sei che non 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 devi trovare quell'ispirazione devi capire come fare quella certa cosa e lo devi capire al volo e è per questo che io mi sono appassionato tanto con disegnatori come ti dicevo prima quando eravamo in diretta dall'aspetto semplice che però in realtà non sono semplici come per esempio si diceva Kirby o Buscema disegnatori del genere perché mi mi trovavo più più facile non è non non dico che è facile ma trovavo più più facile studiare il come avevano disegnato una cosa o come avevano inchiostrato una certa cosa mi arrivava più diretta non so perché però è è così mi arrivavano più diretti e in questo lavoro ti direi che ci sono più che altro loro e poi Frasetta proprio Frasetta ma quello è proprio da da anni che lo adoro la composizione cioè quando devo capire come fa una tavola una vignetta sempre Frasetta è assurdo beh io ho un'impressione una risposta che mi sono dato la cosa che dicevi perché ormai comincio a seguire fumetti da qualche decada i capelli bianchi lo dimostrano è che secondo me i disegnatori moderni hanno inserito tantissimi dettagli in più ossia se tu vuoi vedere una tavola ma anche al di là di Conan ma di qualsiasi personaggio soprattutto nell'ambito americano una tavola degli anni 80 ha assolutamente meno dettagli quindi in quel giro essenziale devono riuscire a colpire con più contratti più semplici adesso secondo me vuoi la tecnologia perché sicuramente disegnare in digitale magari a un certo livello aiuta però si spinge secondo me ad un livello di dettagli che arriva quasi al fotorealismo che per carità è bello è bello però è anche difficile da imitare dopo quel tipo di fotorealismo cioè o c'è o lo studi dall'inizio o se no proprio il modo di fare fumetto che appunto sono gli autori come Buscema o Kirby è più difficile da seguire secondo me sì poi c'è tantissimo questa cosa che con l'avvento del digitale ultimamente si usano una marea di pennelli stranissimi di pennelli digitali stranissimi che non riesco proprio a capire come hanno fatto le cose c'è proprio non c'è una marea di tavole salvate nel computer visto quando uno studia fa ricerca c'è tavole di quello di quell'altro e usano dei pennelli che non io non ho mai capito come sono riusciti perché uso c'ho due pennelli di clip studio e uso quelli lì sono sempre quelli lì due non ci sono effetti strani al limite se c'è l'hatching quello proprio il tratteggio incrociato quello di default però non c'è non ci sono pennelli stranissimi senti ho preparato un gioco per te stasera proprio perché parlavamo di mostri saghi soprattutto perché poi si parla di The Barbarian King che ovviamente è Conan per cui ho fatto una selezione di pin up del nostro simpatico Barbaro di tutta una serie di autori volevo sentire se avevi voglia i tuoi commenti i tuoi pareri su questa serie di autori mi sono selezionati adesso partiamo ovviamente dal più classico dei classici l'hai tirato in ballo te ed è John Buscemo ovviamente eh sì io ci ho praticamente studiato anatomia su tutti i suoi disegni cioè ci sono delle cose che lo vedi che le ho prese da lui per esempio come disegna i deltoidi il brachiale tra il picipite e il picipite che andava parecchio in quegli anni lì o come disegna la curva degli stinchi le cosce i tricipiti cosce sartorico uguali le faccio uguali identici perché ho studiato anatomia a diritto anatomia e inchiostrazione inchiostrazione dopo perché lo l'ho capito dopo quanto era potente quell'inchiostrazione che sembra semplice è sempre il discorso di prima sembra semplice poi all'inizio ti colpisce l'anatomia il disegno poi mano a mano che vai avanti capisci quanto è potente invece quella china così essenziale ma perfetta io di Buscema da profano a parte ho sempre apprezzato moltissimo le donne perché secondo me le disegno in una maniera estremamente erotica ma una cosa che ho sempre apprezzato è anche il modo in cui ha da Conan una sorta di faccia quasi quasi leonina perché ha questo naso che scende giù proprio dritto quindi è quasi bestiale nel modo in cui lo disegna forse riesce a rendere bene la natura rude e poi c'hai gli occhi che sembra abbiano quasi l'eyeliner fondamentalmente resi da Buscema quindi ha un'espressione torva che veramente ti fa ti fa paura quando lo vedi sì sì è vero è vero allora andiamo invece a quello successivo questo è un altro mostro sacro ovviamente del disegno qui fra l'altro beh qui ci sono molti dettagli perché comunque è una tavola questo è uno sketch una commissione che lui aveva fatto per un fan stiamo parlando di di Barry Windsor Smith che è comunque dello stesso periodo sì sì e anche qui uguale io ti dico sempre la stessa cosa studio 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 il il tratteggio il modo in cui sfuma le chine e come inchiostrava le ambientazioni come inchiostra le ambientazioni come crea i dettagli ma anche come crea l'illusione dei dettagli cioè è una cosa difficile da spiegare però mi ha sempre colpito e poi è bello come sono statuari nelle pose sì sì tra l'altro lui riesce a rendere tutti i personaggi possenti senza che siano massicci come Buscema è vero perché non sono ipertrofici sono anzi sono giusti come la famiglia però sembrano ancora più grossi perché sono proprio queste posture imponenti sì beh obiettivamente poi questa essendo una commission si vede che ci ha messo parecchio tempo per farla più di una tavola qualsiasi però obiettivamente rende molto molto bene andiamo a un altro disegnatore sempre dello stesso periodo Alfredo Alcala che comunque disegnava su Savage's World of Conan credo nella prima metà degli anni nella seconda metà degli anni 70 questo ti dico la verità lo conosco solo di vista perché li ho già visti questi disegni qui però ti dico la verità non lo non lo conosco però mi piace il classicismo così a primo patto mi piace come è classico nella nella linea sì questo addirittura sembra quasi una sorta di Prince Valiant anziché Conan c'è proprio una regalità nel movimento che probabilmente il Conan giovane non c'aveva ma manco per sbaglio Conan si chiama Barbaro per ovvie ragioni però no effettivamente secondo me il tratto è un pochettino più vetusto rispetto agli altri due in effetti in effetti al calab poi c'è le alette alla torno aveva le alette sì sì è proprio uno stile molto molto vichingo andiamo avanti aspetta ecco questo è l'ultimo dei superclassici questo è Erni Chan che comunque già siamo anni 80 sì 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 questo ti dico la verità non è tra i miei preferiti ma perché non lo so c'è qualcosa nel disegno nell'inchiostrazione che non mi è non mi è mai piaciuto più di tanto anche il modo in cui tratteggia quel tipo di tratteggio non mi è mai piaciuto è molto Frank Bill eh infatti cioè pagherei oro per disegnare così è chiaro però no capisco quello che vuoi dire forse è un po' troppo pesante come stile sì è strano poi questo tratteggio qui che più più che darmi un volume non so ora dicono una cosa che è brutta da dire perché insomma con quei mostri sacri non si può di nulla però mi dà l'idea che più che dare il volume lo 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 decora tipo non non so come dirti ho capito non mi dà il senso del volume dell'ombra ma mi dà il senso che sulla coscia c'è proprio disegnato quei segni lì sì ecco ecco questo tipo questo tipo di disegnatori inchiostratori mi hanno sempre dato un po' quell'idea lì e mi saltava sempre all'occhio quella cosa lì anche perché è strano perché la donna che è davanti che a giudicare al costume dovrebbe essere Red Sonia però ha una pettitatura completamente differente è completamente illuminata e Conan pur essendo più alto rispetto alla donna invece è completamente al buio quindi c'è qualcosa che è sì è strano è strano una cosa che lo potrebbe far tornare è il colore della carnagione però comunque c'è il corpo tutto bianco e poi quel tratteggio sulla colpo il tipo di tratteggio lì che non non lo so ma è sempre firmato lì mi salta subito all'occhio è quasi come se fosse una calza maglia sì è vero hai ragione allora andiamo avanti andiamo avanti adesso cominciamo ad arrivare un pochettino più in stile moderno perché qui questo è Carrie Nord questo siamo nel periodo di Conan quando Conan veniva pubblicato in America dalla Dark Horse quindi stiamo parlando di una ventina di anni fa 25 anni fa o giù di lì questo qui per me è il mio preferito tra tutti è uno dei miei disegnatori preferiti e i miei fumettisti preferiti non c'è uno più bravo uno meno bravo per me sono tutti allo stesso livello mi piacciono tutti un sacco e lui l'ho studiato tantissimo e mi è mi ha sempre aiutato tanto perché ha questo disegno molto realistico sembra dettagliato ma invece è spesso è molto semplice è strano è semplice e complesso allo stesso livello e mi piace tantissimo come sono come sono naturali i corpi prima c'era Winston Smith che era più imponente statuario invece i suoi li ho sempre trovati molto vivi come personaggi molto naturali piace parecchio soprattutto mi piace tantissimo come gestisce i personaggi secondari e le comparse non nel senso di nell'importanza della storia ma proprio nella tavola sembrano proprio vivi quando vedi i personaggi nello sfondo che lanciano le frecce combattono scappano sembra che prendano vita da un momento all'altro che forse è un po' quella cosa è il mio preferito come disegnatore di Conan che è una cosa che dicevi un po' anche te prima quando parlando del quarto volume dicevi che cercavi di non lasciare nessuna tavola priva di sfondo ma di dare comunque una tridimensionalità alla storia sì sempre e questa cosa che ho notato sempre in lui infatti c'ho tutte le tavole nel computer salvate di come si chiama Eternal Warriors probabile sì sì è bellissimo il fumetto lì è veramente bellissimo e mi piaceva come la che sembra una cosa scontata però spesso si tende a scordarla quando si disegna fumetti e la scena deve sempre continuare e quindi è sempre io cerco sempre di fare questa cosa qui quando succede una cosa in una vignetta se è possibile anche se non è specificato cerco di prolungare quell'azione per almeno una o due vignette dopo per esempio mi viene un esempio con Barbarian King 4 quando Conan sfonda il portone che arriva in faccia a uno dei 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 servi del sultano in quelle vignette lì ho cercato per quanto non fosse strettamente necessario che continuasse l'azione di lui che ha preso la porta o che corre con quella mano che si ho cercato di continuare quella cosa lì perché è una cosa che mi ha sempre colpito di lui ho capito quindi proprio dare un senso alla regia anche su quello che succede nello sfondo è un lavoraccio lavoraccio lavorone nel senso che comunque stai lì devi caricare anche bene quello che succede dietro eh sì più che altro non puoi lasciare niente al caso cioè dopo un po' ti viene naturale se ci tieni veramente tanto a questa cosa qui ti piace tantissimo disegnare cavalli sarà difficile che disegni un cavallo brutto se è la cosa che ti piace di più fare nella vita quindi se ti piace tanto questa cosa qui del fumetto a me la la cosa che mi ha sempre colpito di più del fumetto è che ti scordi che stai leggendo un fumetto sembra che ti parte un film quando è fatto veramente bene è vero mi piace quella cosa lì cioè mi piace la separzialità sì quella cosa lì e beh è importante in effetti arriviamo a uno dei al penultimo dei disegnatori che è Mike Deodato che quando Conan è ritornato in Marvel perlmeno Conan il Barbaro uno dei disegnatori era appunto Mike Deodato eh praticamente come inchiostro io tutti i pettini che faccio io tutti rubati a Mike Deodato aspetta però è Mike Deodato Junior giusto? sì 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 Mike Deodato Junior però non c'è un non sono non sono un lettore Marvel quindi lo conosco per i disegni per le cose no che io sappia non esiste un senior disegnatore di Mike Deodato ok 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 e no i pettini miei tutti quel modo di di inchiostrare sono completamente rubati cioè ho studiato tanti mi piaceva un sacco perché lui è è è un po' il discorso di prima ma non è perché sono quasi decorativi ma non risultano mai essere una decorazione beh l'ombra la capisci da dove arriva creano un sacco volume invece e la cosa bella di che creavano con la china e questi pettini creavano l'illusione dei riflessi è una cosa che a me quando l'ho vista ci sono diventato matto poi la faceva anche Castellini questa cosa qui è vero con la china creavano l'illusione che c'era un riflesso nell'ombra è bellissima no mi piace un sacco l'unica cosa preferisco di più disegnatori come Cari Nord perché mi non tanto prima ma andando avanti mi sembravano sempre di più piantati i personaggi non so se è stato il passaggio al digitale mi sembravano parecchio sì ma secondo me poi di dato rende molto meglio in bianco e nero che a colori io mi sono sempre fatto così non so se non abbiano mai trovato un colorista giusto per lui però i colori che vengono utilizzati soprattutto in Seveggia Avengers sono molto molto acidi e quindi secondo me non li rende bene lo sovraccarica lo fa troppo saturo come stile invece con bianco e nero sto vedendo che è molto più bello sì poi sono disegnatori quelli lì come lui che usano un sacco di nero e quando ne usi tanto non è facile colorarci eh no è complicato perché appesantisce parecchio oppure come hai detto te quando usano quei colori acidi lì tutti sfumati con tutti questi gradienti qui con tanto nero fa strano e separa troppo la china dal 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 colore diventa un po' posticcio il colore su quella china lì sì e arriviamo all'ultimo che fra l'altro è uno dei disegnatori più recenti che è Mahmoud Ashar ah sì sì è uno stile proprio completamente diverso fra l'altro un Conan barbuto che è difficile che si veda altrove in Barbarian King inizialmente almeno fino al terzo volume è barbuto che secondo me poi gli rende di più l'idea perché dai insomma un barbaro ci sta che non si stia a curare troppo l'aspetto ci sta ci sta poi non era cioè non era possibile proprio completamente glabro così magari un pochino un po' di barba incolta però così secondo me si rende parecchio di più beh ma quello poi fra l'altro se vedi anche anche lo stesso Boucher ma lo disegna come se fosse un culturista da palestra di adesso perché è difficile pensare negli anni 70 degli uomini completamente glabri su tutto il corpo invece cioè lui era proprio veramente un culturista da questo punto di vista che forse è una cosa un po' irrealistica per l'epoca poi penso che magari c'entrasse anche qualcosa la la censura dell'epoca non so come avrebbero preso un fumetto con un uomo peloso mezzo nudo che andava in giro perché c'era il comic squad authority secondo me all'epoca è probabile sì sì molto probabile ma senti io su di lui ti dico che è praticamente ti rispondo alla cosa di prima con un esempio sono quei disegnatori che a me piacciono tantissimo li ho guardati tantissimo ma non riesco a capire le soluzioni che hanno adoperato cioè mi risultano difficili quello lì è il motivo per cui cerco più in altri tipi di ispirazioni che mi arrivano più dirette perché mi capisco che c'è stato uno studio gigantesco dal punto di vista del disegno dell'inchiostrazione e anche del mezzo perché queste sono persone che hanno veramente piegato la macchina cioè quando invece il computer ti piega e ti dà i suoi ti mette lì con i suoi paletti devi usare questi pennelli queste cose qui loro invece sono incredibili perché l'hanno piegato completamente con una cosa ci fanno tutta un'altra cosa sono assurdi però non riesco proprio a capire il ragionamento sono bellissimi da guardare da leggere però non li guardo mai per ispirarmi no no capisco quello che io li ammiro tantissimo cioè proprio trovo proprio un muro non so sarà che sono cresciuto con 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 fumetti più anni 80 e 90 e poi ho recuperato parecchio dopo la roba nuova e non tutto perché comunque non sono un lettore marvel e quindi tutta quella roba lì sono cresciuto con la roba image o con spider-man della fine anni 90 o i venom insomma quelle quindi c'erano più i disegnatori che venivano da i primi che mi ha fatto vedere c'erano mark silvestri c'era mcfarlane john romita junior tutti quei disegnatori no john romita junior forse un pochino dopo però insomma c'era quel tipo di disegno lì e quindi mi sono formato più su quelle cose lì sono cresciuto con quelle no ma è comprensibile tra l'altro credo che in questo caso sai che poi dopo il fumetto americano ho cominciato a pescare un po' da tutti gli stili in anni più recenti per cui ho quasi il sospetto che anche lui anche char pur essendo comunque uno che riesce a riempire la tavola molto bene sia di ispirazione più francofona rispetto a quanto possa essere proprio di scuola americana perché comunque lo vedi anche proprio dall'espressività del volto c'è c'è uno studio nel modo in cui c'è il personaggio che è molto diverso da come lo vedevi in buscema eccetera eccetera la cosa che mi fa che mi ricorda molto lo stile americano in questi casi sono i lupi che sembrano con la testa molto sproporzionata come poteva disegnarli Mike Mignola negli anni 80 sì sì è vero è vero e si vede anche tanto da alcune soluzioni con l'inchiostrazione però va parecchio prendere da Mignola per semplificare alcune situazioni degli sfondi e poi c'è anche tanto di manga in questi disegnatori qui nuovi parecchio dell'uso dei retini il tratteggio appennino ma secondo te i retini dipende dall'utilizzo della presenza proprio della tecnologia credo che comunque negli anni 80 90 a parte non so quanto potessero essere usati i retini in America magari non c'è proprio la cultura dell'usare i retini però non si utilizzavano poi dopo no non tanto nei fumetti anni 90 cominci a vederli perché storicamente anche il momento in cui anche in America cominciano ad arrivare di più i manga cominciano ad essere più popolari adesso credo che i retini siano qualcosa suppongo poi dimmelo te che lo usi più tecnicamente il mezzo sia una cosa che puoi applicare direttamente col computer sì 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 ci sono di default in clip studio e ci sono di varie intensità anche mi pare anche sfumati io non li ho mai usati perché mi piacciono tantissimo io leggo leggo più che altro manga ne ho letti tanti leggo parecchi manga e mi piace tantissimo quando ci sono i retini proprio mi mi danno proprio atmosfera mi piacciono sì però ci stanno ci stanno malissimo col mio stile di disegno ci stanno proprio li ho provati ma abbandonati subito beh ma giustamente se poi dopo tu ti rifai molto lo stile classico dei fumetti dei comic book americani era uno stile dove il retino non era proprio concepito non ci stava ma io credo veramente che sì probabilmente la seconda metà degli anni 90 cominciavi a vedere qualche fumetto americano con i retini adesso anche lì ci mettono di tutto e di più però vabbè sono passati ora anche ora anche veramente troppo ora sono sono super carichi proprio anche di effetti sì 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 è una cosa che a me non piace sì sono quelle cose che quando le dicono normalmente mi sento molto molto vecchio perché diciamo vedi apprezzi solo le cose le cose più vecchie saremo vecchi però a me non mi piacciono no no ma capisco perfettamente anzi condivido proprio senti ma ti rivedremo nei prossimi volumi di The Barbarian King adesso ti stai riposando e quindi stai pensando anche ad altri progetti se posso chiederti no 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 non sto cioè non ho intenzione di fare altro se non continuare Barbarian King con Massimo ok il sto e Massimo lo sa sto cercando di fare di tutto il possibile per arrivare a settembre bello carico per per iniziare col col progetto perché mi 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 è dispiaciuto tanto non lavorarci proprio dico senza problemi Massimo lo sa mi è dispiaciuto parecchio ci tenevo tanto e poi quando ti trovi anche benissimo a lavorare con le persone ti dispiace ancora di più perché proprio ti diverti lavori ti diverti fai una cosa che ti piace però è è stata veramente una cosa di 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 una causa di forza maggiore è è capitato eh sì purtroppo ci sono momenti in cui non puoi rimanere sulla sedia e continuare a disegnare nonostante tu invece devi devi chiudere tutto e niente sto disegnando un po' per me sto facendo delle illustrazioni su carta perché mi mancavano ma non è un progetto non è non è niente è che se comunque non continuo a disegnare un po' è è finita è una palestra che serve certo eh sì più che palestra è la valvola di sfogo è la valvola di sfogo quindi va devi comunque nonostante tutto cercare di mantenerla anche se una volta a settimana ti metti i disegni però però no non ho non ho non ho progetti il progetto è rimettermi a lavorare su Bad Bunny and King perché ci tenevo a continuarlo e no mi piacerebbe tantissimo portarla a termine anche anche perché è evidente proprio se si traspare dalle tavole che siete un team affiatato e che quindi è giusto che si funzioni così tutti quanti assieme di concerto ma d'altra parte la famiglia Leviathan Leviathan è così eccolo qui guarda che è arrivato Massimo riesci a leggere i commenti Nicolò eccolo ora si ma anch'io infatti è quello il casino che arriva un punto che ti devi riposare un attimo e ti dispiace un casino perché ti trovi ti trovi bene io alla fine ho iniziato con un lavoro con Kleiner e poi ho lavorato con Leviathan Lab e ho lavorato con Massimo e basta quanti saranno 3-4 anni che lavoro solo con Massimo perché perché mi trovo bene tantissimo proprio è bello mi diverto e quindi niente meglio di così sarà un bel riposo e continuare col barbalo ottimo allora intanto vi faccio di vedere la copertina del quarto volume che è oramai uscito già da qualche settimana quindi lo potete trovare in giro ops ho allagato il computer perfetto fantastico mi sa che sei mutato sì ero mutato la bottiglia a qualche effetto l'ho fatto effettivamente ha mutato il microfono dico no il quarto volume di The Barbarian King ormai è disponibile già da qualche settimana quindi lo trovate nelle librerie e nelle fumetterie non dovreste fare fatica a recuperarlo Massimo Rosi Nicolò Tofanelli Nicolò noi ti auguriamo naturalmente di vederti al più presto sulle nuove pagine di The Barbarian King quindi riposati e torna presto a disegnare il barbaro e io ti ringrazio davvero per questa chiacchiera testa grazie a te grazie a te ringraziamo anche Vapore di Birra che ci ha offerto da bere e ci vediamo prossimamente allora ciao grazie ciao Nicolò ciao a tutti buona serata ciao ciao anche a te